Una passione per molti, un vero lavoro per altri. L'ornitologia è un vero mondo a sé. Basta frequentare una mostra a concorso per rendersi conto della vera passione, competenza e conoscenza per questi pennuti che i loro allevatori hanno regalando con il loro lavoro agli amanti degli uccelli un universo multicolore musicale. Alla bocciofila la combattente di Fano, visto il grande successo di pubblico della scorsa edizione, anche quest'anno tornano sabato e domenica prossimi centinaia di esemplari, alcuni anche rarissimi e pregiatissimi, che faranno la gioia dei visitatori e soprattutto dei bambini regalandogli uno spettacolo unico e raro. In aumento anche la qualità degli allevatori e la qualità dei soggetti esposti, perché facendo un giro si vedono già dei campioni, dei progetti campioni, quindi siamo soddisfatti. Gente da tutta Italia? Più che da tutta Italia, soprattutto dalla regione, dalla regione limitrofi, dall'Umbria, dalla Romagna e quindi anche dall'Abruzzo. Comunque gli esemplari sono a circa mille esemplari, piano piano questa mostra sta crescendo. Insomma siete aperti a tutto, quando ci sarà questa mostra? Questa mostra inizia domani sabato e poi sabato pomeriggio possono visitare il pubblico e anche tutta domenica.